Il servizio delle hostess di Italia 61 è invece finito e le graziose missionarie della cortesia ricevono ora un premio per il loro prezioso lavoro svolto in occasione della grande manifestazione torinese. Hanno guidato 7 milioni di visitatori, hanno percorso centinaia di chilometri alla testa di comitive giunte a Torino da ogni parte del mondo e adesso eccole impegnate nell'ultima maratona della stagione, una maratona a ritmo di jazz questa e tutta in loro onore. Anche se è fuori servizio però qualcuna deve tirar fuori dagli scaffali della memoria il vocabolario di lingue straniere e qualche altra deve sorridere anche se il ballerino le passeggia deliziosamente sui piedi o se l'immancabile frenetico del rock che si incontra allo stato brado in ogni festa da ballo vuole fornire alla turba un saggio della propria bravura.